Un impegno concreto a ridurre la plastica negli stabilimenti balneari del litorale pescarese. L'intesa raggiunta nell'ambito dell'iniziativa denominata Stop Single Use Plastic ha visto la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra Regione Abruzzo, Capitane Redi Porto, Guardia Costiera di Pescara, Comune di Montesilvano, Associazione Marevivo, Sibacomf Commercio Pescara, Fibacomf Esercenti, Fab CNA e Società Nazionale di Salvamento, Sezione di Pescara. Comandante De Carluis, un impegno concreto per ridurre la plastica anche sul nostro litorale? È un impegno dovuto, dovuto perché ormai siamo pieni di microplastica, una plastica che non si vede però c'è e tra qualche anno sarà bandita completamente l'uso della plastica monouso e noi ci preoccupiamo già da ora a sviluppare quella coscienza, quella consapevolezza con dei piccoli gesti che possono servire a creare un ambiente più pulito. Comandante, la coscienza ambientale è rappresentata dalla presenza di mare rivivo, significativa? È molto significativo, sono loro che ci guidano, ci danno i giusti input, che ci fanno riflettere su quelli che sono i comportamenti da tenersi per salvaguardare il mare e le specie acque. Comandante, per concludere, oggi entra l'estate, ha avuto una riunione tecnica con i suoi uomini proprio per vivere il mare in tutta sicurezza. Sì, oggi abbiamo avuto, oggi ufficialmente, il suo stizio d'estate, quindi entra l'estate e noi siamo già dal primo giugno, è partita l'operazione Mare Sicuro che si prefigge il presidio sia delle coste sia del mare con le nostre unità a fine di garantire una serena estate e quindi prevenire comportamenti che siano pregiudizievoli per la sicurezza della vita amana in mare. Noi saremo sempre presenti, ripeto, unisco sia il discorso sicurezza con il discorso ambientale e pertanto mi sento di augurare un mare sicuro e pulito per questa estate 2019.